Eccoci qui, un saluto come state ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un bel like e a iscrivervi da questa parte attivata la campanella. Videomercato Milan che è molto vicino alla chiusura per un giocatore, un grande prospetto, del quale avevamo già accennato, ora siamo davvero verso la chiusura, saranno clamorosi colpi di scena. Il giocatore in questione è Matija Popovic, attaccante del Partizan, nato l'8 gennaio 2006, nato in Germania ma di nazionalità serba. Giocatore molto d'utile, può fare anche il trequartista all'esterno, a 17 anni ne farà 18 l'8 di gennaio, quando potrebbe essere già un giocatore del Milan. Perché, pensate, il suo contratto scade il 31 dicembre, quindi tra un mese e mezzo. Il Milan sta cercando di chiudere, grazie all'ottimo lavoro di Moncada ed Ottavio, per questo prospetto molto interessante. Che pensate, nell'ultima stagione ha fatto 25 partite, 21 gol e 5 assist con l'under 19 del Partizan. Prossimo a essere svincolato, ha anche una presenza nel nazionale serba, under 17 in 7 gare, ha scelto infatti il nazionale serba. Il Milan è fiducioso di vincere anche concorrenze importanti come Borussia Dortmund, Barcellona e Bayern Monaco. Pensate che lui è stato inserito dal The Guardian recentemente come tra uno dei migliori 60 giovani al mondo. Profilo, ripeto, alto 1,93, piede destro, fisico importante, visione, tecnica. Ha fatto diversi ruoli. Il Milan vuole rinforzare il proprio, diciamo così, reparto giovani con vista però sulla prima squadra. Diciamo che si spera che possa fare un percorso diverso rispetto all'Azic, che prometteva molto ma si è perso per strada. Lui è un prossimo parametro a zero che il Milan prova a chiudere, vuole chiudere. Diciamo che in questo momento il Milan è molto vicino all'accordo per Popovic, che potete guardare su YouTube. Andrebbe innanzitutto in primavera per sei mesi e poi dopo quei sei mesi si valuterà eventualmente che cosa fare. Può fare il trequartista, può fare la punta, la seconda punta, l'esterno. Un giocatore molto tecnico, d'utile e fisico. Un saluto, iscrivetevi.